amici di youtube ben trovati da marco liguori segnaliamo un violentissimo terremoto di grado 6,6 della scala richter il violento sisma ha colpito la cina e purtroppo i danni sono davvero ingenti al momento si contano 46 morti segnaliamo inoltre danni a casi edifici e tante città hanno avuto le linee di comunicazione interrotte per alcune ore la scossa è avvenuta nella provincia del sichuan ha toccato anche la megalopoli di shang du che da sola conta 21 milioni di abitanti nei prossimi giorni nelle prossime ore vi terrò aggiornati sul bilancio dei danni del terremoto in cina al momento uno dei più violenti di quest'ultimo periodo amici di youtube vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video